Anche in Serie B è suonato il gong a indicare la chiusura del calciomercato. La serenità ne ha vissuto ore importanti al centro di tante trattative di mercato con l'arrivo a last minute di alcune pedini utili per Martusciello. La formazione Granata abbraccia un nuovo attaccante, ovvero Ernesto Torregrossa. Il calciatore è stato ufficializzato ieri alle 23 ed è giunto in città nella notte. L'italo-venezolano non vuole perdere tempo ed è arrivato il prima possibile perché è desideroso ed entusiasta di intraprendere questa nuova avventura. Dopo una stagione tribolata per via di alcuni infortuni e il fatto di essere stato messo fuori rosa al Pisa. Scambio con l'Empoli per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 il difensore classe 96 Sambia. Percorsi invece Pestojanovic, esterno-destro, pronto a essere già titolare contro il Mantua. A sé di mercato con il Verona nelle ultime ore, i Granata hanno ottenuto l'accordo con il Verona per il trasferimento in Granata di Jurstic. Il calciatore arriva da titolo definitivo fino al 30 giugno 2025 con il rinnovo automatico per un'altra stagione a determinate condizioni. Classe 1996 di nazionalità australiana ma con origini bosnieche. Il nuovo calciatore Granata è polivalente e ha spiccate abilità di costruzione e inserimento offensivo. Cresciuto nel settore giovanile dello Schalke, lo scorso anno ha disputato la seconda metà di stagione in prestito agli olandesi dell'Era Classe. In Nere Device scendendo in campo 14 volte segnando un gol. A contrario, verso Verona ci va Bradaric in prestito con diritto di riscatto. Per Martuscello arriva anche il rinforzo difensivo visto che Petrachi è riuscito a trovare l'accordo con il Classe 1992 Gianmarco Ferrari. Il calciatore si è legato al Gleb Granata fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico biennale al verificarsi di determinate condizioni. In casa Juve Stabia, oltre al saluto di Mignanelli che ritorna in Serie C alla spalla, mister Pagliuca ha potuto abbracciare due rinforzi. Ovvero Gregorio Morachioli dal Bari che si lega alle Vespe con un contratto fino al 2026. Il calciatore, nato allo Spezio il 27 febbraio del 2000, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juventus. Ha poi vestito le maglie di Pistogliese, Rieti, Renate, prima della sua ultima esperienza al Bari dove ha collezionato 39 giocare segnando un gol. Al tempo stesso è stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive a titolo temporaneo dalla Fiorentina nel difensore Niccolò Fortini fino al 30 giugno 2025. Il calciatore è nato a Lucca il 13 febbraio del 2006 ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina.